Si è svolta in questi giorni a Riyadh la dodicesima edizione della Big Five Saudi, la fiera di rilevanza internazionale dedicata al sistema casa. Una grande opportunità per le imprese marchigiane, come raccontato da Moreno Bordoni, segretario di CNA Marche. È un impegno importantissimo da parte dell'azienda speciale insieme alla Camera di Commercio della Regione Marche perché parliamo di un grandissimo evento a livello internazionale ed è la fiera più importante ormai quasi al mondo per quello che riguarda il sistema casa e le costruzioni. Consideriamo che ci sono in Arabia Saudita 24 megaprogetti da qui ai prossimi 30 anni che probabilmente cambieranno tutto quello che è lo scenario dell'Arabia Saudita stessa che diventerà il paese di riferimento del mercato arabo. È assolutamente un mercato straordinariamente importante per le nostre aziende che per partecipare a questa fiera si devono prenotare circa un anno prima e noi ormai da tre anni insieme alla Regione Marche stiamo portando avanti questo progetto che ci sta dando notevoli soddisfazioni. È una fiera partecipata da operatori di tutto il mondo che sta diventando davvero importante perché l'Arabia Saudita ha aperto un po' le porte di questo mercato che vede protagonisti molte aziende europee e anche grande parte di padiglioni occupate da tantissime aziende italiane che ormai da anni sono fisse in Arabia Saudita perché proprio credono nel futuro e nello sviluppo di questi grandi progetti. Già in questi giorni, appena finita la fiera, abbiamo iniziato a prenotare i posti per il prossimo febbraio del 2025 perché c'è una richiesta assolutamente importante che speriamo di riuscire ad evadere.